ciao dolcesse oggi mangiamo una fetta di torta con le cocce di cioccolato e la ricotta che ho fatto io in casa vi voglio far vedere prima di tutto queste bracciali questa collana questo bracciale ce l'avevo anche rosso ma si è rotto di quando ero giovane quando ero piccola ero un putamarra ce l'avevo anche rosso si bellissima con le piglie andava di moda negli anni 90 92 questa collana bianca e nera per gli amanti della juve come squadra di calcio l'ho macchiata anche di smalto quindi non la metto più per uscire non mi uso più a metterla questa collana però voglio fare la sono dimenticata per il video suoni con le collane che ho fatto recentemente e ve la faccio vedere adesso poi mangiamo una renda insieme con la torta fatta in casa da me fatemi sapere se anche voi compravate queste collane le mettevate quando eravate più giovani quando eravate più piccole sia ragazzi che ragazze ok se siete del 90 92 91 93 insomma magari le mettevate anche voi ok commentato bello me lo tengo come ricordo non la metto più io però sta collana ovviamente cioè voglio farmi ridere dietro il braccialetto così ce l'avevo anche rosso questo in qualche video potrei anche metterlo ancora anche se con la maglia nera sono davvero in lutto tutto nero però è bello questo braccialetto me lo tengo adesso ok bello grosso così si vede adesso tagliamo una fetta di torta che ho fatto io e la mangiamo insieme ok l'avevo già fatta ho fatto il video ricetta la teglia qua tagliamo una fettina piccolina piccolina picciò è un po' dura stavolta forse perché l'ho messa in frigo ed è cemento pronta cemento in piemontese parlo un po' piemontese a volte scusate mi scappa ok questa è la torta con un sacco di gocce di cioccolato dentro bella morbida comunque video ricetta l'ho fatto sia su questo canale che sull'altro le mani le ho pulite ma volevo anche andare bene a bere qualcosa ciò che ci siamo perché questa è asciutta con la ricotta ma è asciutta quindi quasi quasi fermo un attimo vado a prenderla bene e torno eccoci qua oggi beviamo insieme alla torta orange lemon questo qui pensavo di comprarlo solo con l'arancia succo della bravo è una novità speriamo sia buono orange lemon drink cosa c'è scritto in italiano vediamo un po' bevando al gusto di arancio e limone con zucchero ed edulgoranti vitamina b6 vitamina c vitamina b12 biotina niacina acido pantotenico edulgoranti eccetera 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 acqua zucchero succo d'arancia succo di limone olivi vegetali cocco e colza gomma di cellulosa gomma di xantana vabbè se leggiamo gli ingredienti non compriamo mai niente però io faccio attenzione questo qui è una novità c'erano anche altri gusti voglio vedere se è buono lo assaggiamo insieme senza romperci un'unghia ok bello il suono di quando si rovescia qualcosa dentro un bicchiere stupendo adoro questo non è gasato bella comunque la confessione verde gialla c'è un odore di limone di arancia appena l'ho aperto sto succo speriamo sia buono solo che col rossetto ragazzi lascio tutte le impronte vabbè beviamo è buono sa tantissimo di limone poco di di arancia però è giallo è buono non è male un po' acido assaggiamo questa torta cioè io la so già com'è la so già com'è è un rossetto un po' si è stampato sul bicchiere anche se dovrebbe essere matto però vabbè mangiamo col rossetto non fa nessun amore se non è che faccio io i suoni con la bocca la torta asciutta però è buona provate anche voi a farla se l'avete fatta in casa come vi è venuta fatemi sapere se vi piace poi cosa fate capodanno ormai arriva il natale televisione vanno già gli auguri di buone feste a tutti noi che guardiamo la tv ovviamente quindi sono partiti presto siamo i primi di dicembre oggi quindi vabbè il 9 dicembre oggi quando registro questo video è il 9 ma voi lo vedrete il 18 perché fino al 15 16 di questo mese ho già dei video programmati quindi questi video arriveranno tutti in ritardo ma va bene lo stesso non so se arriverà prima questo video o poi l'altro video o l'altro video prima comunque antonella pink whispering mi ha richiesto un video trucco con lo tilda che se l'hai già truccata però vabbè farò finta e lo farò antonella grazie e anche devo fare la parrucchiera per natale per le feste farò finta di fare la parrucchiera magari con clotilde o nello stesso video o farò un altro video perché non sono capace di fare la parrucchiera di fare acconciatura e comunque ci proverò sulla bambolina mi ha richiesto di fare la parrucchiera francesca ranieri quindi io che devo fare la parrucchiera e che faccio acconciatura per le feste però su di me non sono capace di fare le acconciature poi ho i capelli corti anche clotilde ha i capelli corti quindi non so non ho nessuno che mi faccia la cavia insomma quindi userò la bambolina per fare questo video richiesto da francesca poi farò anche magari il prossimo anno a questo punto la torta di nocciole adesso vediamo quando riesco è tanto acido questo succo sa poco di arancia c'è scritto orange e lemon orange e lemon della sunny cioè sunny orange della bravo di solito i succhi della bravo sono buoni questo qui è tanto tanto acido brusco brusco si baxa di limone peccato però visto che mangio ci va qualcosa da bere insieme a me piace questa torta dai non è male si spriciola però è buona ok sono già piena così mi vedete se non sono tagliata devo fare un roleplay dove tolgo l'ansia grazie frank franky 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 frank me grazie franky francesca sicuro si spriciola si spriciola voi avete già fatto l'albero sicuramente immagino ma tutti sono partiti già a ottobre a fare un albero vabbè anche nei negozi sono partiti presto a decorare ad addobare i negozi voi avete già addobato tutta la casa io addob però ho addobato una stanza e basta devo fare i pacchetti e i regali per gli altri con questa carta bellissima guarda che bella gialla dorata e rossa cioè più che giallo dorato e rosso con i glitter questa carta qui ok bellissimo e con i bigliettini guarda che bello il nastrino e il bigliettino ok save the children il nastro rosso sul pacchetto bellissimo devo ancora finire un sacco di regali per gli altri prima che sia natale sono sempre l'ultima purtroppo una cosa che mi mancherà da parte mia nonna queste festività sono e fare il presepe che in casa non c'è spazio sono piena di scatole scatolette scatoline scatoloni mi dispiacerà andare in un'altra casa dove non ci sarà il muro rosso purtroppo vabbè posso dipingerlo nella prossima casa lo dipingo mi piace il muro rosso invece niente vabbè io l'albero ce l'ho piccolo in questa casa e quindi non è che posso addoppare tanto anche lì di spazio in soggiorno ne ho poco quindi troppe decorazioni poi tolgono l'aria non va bene anche le luci fuori questa non le metto perché c'è già la vicina che le mette e le ha uguali alle mie quindi c'è per metterle uguali che sono un po' stropposcopiche tipo discoteca non le metto e via ragazzi vi saluto il succo non mi va impazzino la torta è buona l'ho fatta io abbastanza buona ma neanche niente di che e a presto ci sentiamo ancora prossimamente nei prossimi giorni sicuramente ok io ho già fatto un video ieri sulle decorazioni natalizie ma senza microfono lo rifarò con il microfono in giro per la casa ma solo in una stanza vi faccio vedere la decorazione e devo ancora fare l'albero perché non c'ho voglia quest'anno sono il cringe comunque vabbè a presto alla prossima a presto